Al via domani sabato 8 maggio dalle ore 12 la prenotazione per i vaccini anti-covid per la fascia d'età 60-64 anni. Questa categoria sarà vaccinata nei punti già individuati sul territorio regionale e sarà possibile prenotare le somministrazioni attraverso il portale di poste italiane o tramite il numero verde attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 20. Per la prenotazione online oltre ai dati personali dell'utente occorrerà disporre della tessera sanitaria, del codice fiscale e di un numero di cellulare sul quale verrà notificata la conferma. Inoltre è possibile prenotare anche nei postamat e tramite il portalettere. Una volta avviata la richiesta all'utente verrà comunicato il giorno, la sede nella quale verrà somministrato il vaccino e l'orario in cui ci si deve presentare. Al momento dell'inoculazione della prima dose sarà comunicato anche il giorno per effettuare il richiamo. La regione poi ricorda che i marchigiani possono prenotare la loro dose anche inviando un sms con il codice fiscale al numero 339 990 3947. Entro 48 72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di poste italiane per procedere telefonicamente alla scelta del luogo e alla data dell'appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'invio di un semplice sms dall'operatore telefonico di appartenenza. E lunedì partiranno le prenotazioni da verificare sempre sul sito ufficiale della regione Marche per le persone con patologie non gravi che non rientrano tra le persone estremamente vulnerabili di età compresa tra i 50 e i 60 anni.